Sono Andrea Tortori, CEO di Biorilis, un'azienda che si occupa dello sviluppo di innovativi metodi per l'analisi dei microRNA. Le microRNA sono degli importanti biomarcatori di malattie quali l'Alzheimer e diversi tipi di tumori. L'idea è nata proprio dalla difficoltà riscontrata all'interno del laboratorio di analizzare questi marcatori per uso diagnostico. I principali risultati raggiunti sono stati quello di avere un prototipo funzionante e lo deposito di un effetto italiano e internazionale. I prossimi passi sono quelli di validare il prodotto per poterlo commercializzare entri i prossimi 12-18 mesi. Qual è l'impatto della nostra startup nel mondo? E' quello di poter migliorare la diagnosi e la prognosi di malattie quali l'Alzheimer, diversi tipi di tumori, osteoartrite e altre malattie anche legate all'invecchiamento.